Allora inizio innanzitutto ringraziando Genevieve e tutte le persone che hanno reso possibile questo congresso. Sto imparando molto, grazie. La prima domanda a cui vorrei rispondere è cosa significa donare? Cosa facciamo quando doniamo? L'antropologia ci dice che nelle pratiche del dono circolano cose, beni, servizi. Si potrebbe dire che quando facciamo un dono noi offriamo noi stessi attraverso questa circolazione di cose, beni e servizi. Cosa ci spinge ad offrire? Quando il dono è libero da coercizione, quindi quando il dono riesce, Oggi pomeriggio non parlerò del dono che non riesce, non parlerò del dono gerarchico, di un dono di cui ha scritto per esempio Etienne de la Voitié nel suo discorso sulla servitù. Dicevo che quando il dono riesce, il dono è espressione di una sovrabbondanza, di una eccedenza, come ha scritto Paul Ricoeur. Nel dono c'è molto di più rispetto alle cose che circolano. Dietro al dono sta quindi questo di più, o come scrive John Kutze, va bene la pronuncia? Come scrive John Kutze in un suo romanzo Slow Man, chiedo a Bernadette perché lui è uno scrittore sudafricano che probabilmente tutti conosciamo perché è stato anche premio Nobel per la letteratura. Secondo lui ciò che ci spinge a donare è più o meno consapevolmente un desiderio di esprimere amore. In un passaggio di questo romanzo, dice proprio con riferimento a Marianna, vi racconto brevemente la storia, mi lascio accompagnare da questo romanzo perché è considerato che ho appena mangiato, è più facile parlare con la letteratura che con la filosofia. Questo romanzo, Slow Man, si tratta di un romanzo dove il dono costituisce un'esperienza fondamentale, costituisce la dorsale di tutto il racconto. In questo romanzo lo scrittore sudafricano racconta una storia, è la storia di Paul e Marianna. Il protagonista, Paul, incontra Marianna in un periodo molto difficile della sua vita. Ed è proprio in questo periodo di dolore, trova in questa donna l'energia per tornare a vivere. E c'è proprio un passaggio all'inizio del romanzo, di questa storia, in cui il narratore ci rivela esplicitamente la radice della capacità di Marianna di donarsi. Lo cito, lei è così perché è amata. Se è una logica della sovrabbondanza, come dice Ricoeur, che sta dietro al dono, che cosa sta invece davanti al dono? Voglio dire, qual è il fine del dono? Si dona qualcosa di sé per raggiungere l'altro, per gettare un ponte verso il destinatario del dono. Voglio dire che quando noi doniamo, cerchiamo di creare o di nutrire dei legami liberanti, cioè dei legami capaci di far fiorire noi stessi e anche le persone che sono coinvolte in questa esperienza di dono. E questo sembra proprio che sia quello che accade a Paul, il protagonista del romanzo. La presenza benefica di Marianna nella sua vita non solo gli dà la forza per rinascere, ma mette dentro di lui il desiderio di donare a propria volta. Lo cito di nuovo. Dare, ormai, lo mette di buon umore, lo incita a dare ancora di più. E infatti Paul offre alla famiglia di Marianna una borsa di studio per il figlio di Marianna. Sto seguendo il filo conduttore di questa storia anche per un altro motivo. Perché ci permette di affrontare una questione che abbiamo toccato ieri, una questione sulla quale vorrei tornare. Il dono è unilaterale o è reciproco? Il dono del nutrimento, della cura che la madre fa al bambino è un dono unilaterale, diceva Genevieve. A questa concezione del dono Elena Pulcini replicava Certo, il bambino non può ricambiare il cibo alla madre, ma può ricambiare con l'affetto. Allora, dono unilaterale o dono reciproco? Cosa ci dice John Cudse in proposito? Così devo tornare al romanzo e raccontando la storia di Paul il narratore dice, lo cito Poi Paul aveva incontrato Marianna e il suo cuore aveva subito un cambiamento non è più quello di una volta il suo cuore ha ricevuto tanto da lei il suo cuore adesso vuole a sua volta ricambiare ricambiare non è esattamente ripagare fine della citazione Allora, cosa significa ricambiare? E perché secondo Cuzzi ricambiare Cudse ricambiare non significa ripagare in altre parole che cos'è la reciprocità? Esistono diverse forme di reciprocità esistono varie figure di reciprocità alcune di queste figure sono incompatibili con il dono alcune forme di reciprocità credo che siano compatibili vorrei sfiorare questa questione della reciprocità ricorrendo a un episodio di vita quotidiana dopo una cena in casa chi laverà i piatti? Di fronte a questa prova dei piatti le reazioni che può avere una coppia sono diverse comincio dalla peggiore ciascuno cerca di scaricare i piatti all'altro perché? perché sente che tocca sempre a lui questo sentimento negativo può anche trasformarsi in accusa anche in una volontà di rivalsa questa relazione così come si dà in quella sera è caratterizzata da una reciprocità negativa che manifesta delle difficoltà dei problemi insomma quella sera in quella casa manca l'ossigeno e anche il dono di fronte ai piatti da lavare la coppia potrebbe anche reagire diversamente vengo così alla seconda figura di reciprocità cioè dire oggi tocca a te domani tocca a me allora in questo caso questa coppia i due osservano la regola del dare e rendere puntualmente questo tipo di reciprocità si chiama reciprocità alternata uno potrebbe dire ma perché meravigliarsi se questa coppia si è presa alle sue cautele per dare senza rimetterci non ci sarebbe niente di male se si trattasse di una relazione con il panettiere oppure con il pescivendolo ma un legame personale come quello che c'è tra chi vive insieme non può essere ridotto a un legame contrattuale non può essere ridotto a un dare e rendere puntuale allora in questo stadio la prova dei piatti diventa di nuovo problematica perché è rivelatrice di una relazione di scambio e non di una relazione di dono questo secondo stadio in cui è la componente dello scambio che conduce il gioco viene superato quando la relazione si caratterizza invece per una reciprocità positiva prima avevamo nella secondo stadio nella seconda forma di reciprocità un partner si trovava una volta in una relazione di debito quando era l'altro che lavava i piatti e l'altra volta in una situazione di credito quando era lui che lavava i piatti adesso non è più così tutte e due le persone si trovano costantemente in una situazione sia di debito che di credito sono sia donatori che beneficiari cioè la situazione si confonde e si realizza un flusso di generosità che va dall'uno all'altro dall'altro a uno e questa generosità nutre e consolida queste due persone rinsalda dal desiderio di donare anche infonde nuova linfa all'identità dei due concludo dicendo perché Bernadette mi ha detto che devo chiudere ci sono dunque due modelli estremi che ho esaminato il modello della reciprocità negativa e quello della reciprocità positiva quello della reciprocità alternata diciamo in una posizione intermedia credo che questi anche i modelli più lontani non debbano essere considerati contraddittori perché sono modelli compatibili cosa intendo dire intendo dire che possono rappresentare momenti diversi nella vita di un individuo nella vita di una coppia dire questo però non significa considerare queste forme di reciprocità sullo stesso piano perché la terza figura di reciprocità la reciprocità donante riesce a tenere è l'unica reciprocità che riesce a tenere insieme due finalità la riuscita del proprio sé il fiorire del proprio sé e la riuscita al fiorire della persona dell'altro solo così può nascere e crescere un legame di riconoscimento io credo che infatti il legame del riconoscimento sia il fine del dono grazie 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 grazie